Le pressioni dei sindacati, dell'opposizione parlamentare, oltre che dello stesso Partito Democratico sulla questione del concorso, non sembrano aver smosso la ministra Zolina dalle sue posizioni. Proprio oggi, infatti, le prove del concorso straordinario per la scuola secondaria hanno preso avvio. Ancora fino a ieri si sono susseguiti i tentativi di convincere la ministra a fermare la procedura, ma non c'è stato nulla da fare, come peraltro era facilmente prevedibile. Negli ultimi giorni ci sono stati anche appelli rivolti alle regioni con la richiesta di bloccare i concorsi per motivi sanitari, ma proprio nel pomeriggio di mercoledì ci ha pensato il senatore della Lega Mario Pittoni a raffreddare gli animi con un post inequivocabile. I governatori, ha scritto Pittoni, possono inibire l'effettuazione di concorsi pubblici in presenza di provate esigenze di tutela della salute. Occorre cioè dimostrare che anche la sola concentrazione nello stesso edificio, non basta lo stesso locale, di una quarantina di persone può costituire un pericolo di contagio. Inoltre, le ordinanze regionali possono vietare gli spostamenti da una provincia all'altra e anche all'interno di una provincia, ma sarà sempre possibile muoversi in caso di necessità. Salute, approvvigionamento di genere di prima necessità, lavoro. E i concorsi sono appunto selezione per il lavoro, così Pittoni. E a proposito delle regioni va segnalato che l'ordinanza della campagna con cui si disponeva la chiusura delle scuole fino a fine mese era stata impugnata dal governo, ma ritenuta poi pienamente legittima dal Tar. Vicenda analoga per l'ordinanza del Piemonte sul controllo della temperatura degli alunni da parte delle scuole. Anche in questo caso il Tar ha dato ragione al presidente Cirio. E così anche altre regioni si sentono ora più libere di emanare disposizioni in contrasto con quelle del governo. Il Lazio, per esempio, ha stabilito che per contenere gli spostamenti casa-scuola e viceversa, dalla prossima settimana il 50% degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado dovranno seguire le lezioni a distanza e non in presenza. In Lombardia la didattica a distanza riguarderà tutti gli studenti delle secondarie di secondo grado, mentre in Piemonte si estende al 50% degli studenti dalla classe seconda alla quinta. Su queste decisioni il Movimento 5 Stelle polemizza. I senatori del Movimento della Commissione Istruzione del Senato dicono che è gravissimo e sconcertante il fatto che vi siano alcune regioni che, a causa dei propri ritardi e delle proprie inadempienze, in particolare sul fronte del trasporto pubblico locale, impongano la sospensione delle attività didattiche in presenza per ora nelle scuole superiori. Poi chissà. La situazione, come si intuisce, è complicata e anche molto tesa e non è da escludere che possa aggravarsi già da oggi. Nel pomeriggio infatti è prevista al Ministero l'apertura del tavolo di confronto per la sottoscrizione del contratto integrativo sulla didattica a distanza, mentre per mercoledì 28 è in programma un incontro fra la Ministra e i sindacati su svariate questioni, tra le quali il rinnovo del contratto nazionale. Bene, su questo ovviamente noi continueremo a tenervi informati, quindi seguiteci su questo canale ma seguiteci anche sul nostro portale www.tecnicadellascuola.it Continuate anche a scriverci, a mandarci le vostre esperienze, a mandarci i vostri racconti, noi ne daremo conto come al solito. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.